Chi semina vento raccoglie tempesta, si legge nella Bibbia e poi è diventato anche un proverbio molto popolare. Chi semina vento raccoglie tempesta. Ragazzi attenti, soprattutto io mi rivolgo ai partiti politici dell'opposizione, i quali hanno detto talmente tante bugie ammantate di pseudo, anzi di post verità, che hanno creato una certa confusione. Poi dopo quello che è accaduto ieri con quell'episodio di neosquadrismo nei confronti di un ex deputato mi sembra molto inquietante. Com'è inquietante che Grillo continui con le sue uscite contro i giornalisti, li chiama walking dead. Non siamo nell'avaspettacolo, siamo nella politica e nella realtà italiana. Chi semina vento raccoglie tempesta. Ragazzi equilibrio e smettiamola di fare i furbetti perché i giornalisti non sono tutti degli idioti. Volete che come accade in Turchia i giornalisti vengono arrestati e non ci sia più una libertà di informazione? Beh, insomma, riflettete ragazzi, riflettete. Grazie a tutti.